La terra avviene a tremare in centro Italia, centro nord Italia precisamente, in Toscana ma anche in Emilia Romagna. Firenze e Bologna, le province vengono coinvolte da terremoti, 5 scosse di terremoto, i comuni più vicini di epicentro, palassuolo sul segno Castello del Rio, provincia di Bologna, 3 scosse già registrate ieri sera, come il 26 marzo 2022 alle 7.50 della sera, di 2.1 e altre due scosse di 2.0, insomma la terra torna a tremare, ripeto. In Toscana, in Emilia Romagna, precisamente in Bologna, tra i comuni più vicini, palassuolo sul segno Castello del Rio, che sono rispettivamente in provincia di Firenze e in provincia di Bologna. Vediamo quello che accadrà in futuro, continua dunque la terra a tremare, oltre ai terremoti che già ci sono stati qualche giorno fa di tempo, sempre in quel di Firenze, quindi ci troviamo in Toscana, provincia di Firenze. Il video termina qua. Dariato, Dariato e Dariato è tutto, ciao a tutti.